La nostra scuola, il caso di medicina della città che è disposta, la impiegherete per l'acquisto di lampagne di energia rinnovabile e sostenete ancora di più con percorsi mirati l'energia rinnovabile. La nostra scuola è la scuola green eco-sostenibile. Anch'io come ambasciatrice a Amster voglio ringraziare la scuola Padre Italia Columbo di Poglia Mise per avere soppostibile questo grandioso sole in classe e naturalmente invito tutti quanti a votare per noi. Mi raccomando!